L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Il TG Porco è l'informazione che amo. Qui ho le mie radici, qui ho le mie ambizioni, qui voglio spendere il resto della mia vita. Finanza il TG Porco con un soldino, il TG Porcellino che ti farà dimenticare tutte le porcherie che diciamo sugli altri canali.